ciao a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome è Rossella Pani oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana dal momento in cui la state guardando utilizzeremo tre mazzi di carte ok e suddivideremo la lettura in tre gruppi gruppo A gruppo B e gruppo C quindi vi chiedo con amore durante la preghiera di protezione di chiedere ai vostri angeli all'arcangelo Michele qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi naturalmente potrebbero essere anche tutte e tre i gruppi o solo due sentite il vostro cuore sentite il vostro sentire perché il vostro sentire dice sempre la verità iniziamo con la preghiera ok invoco la divina presenza di dio dea onnipotente padre e madre i miei angeli custodi il mio sé superiore gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono invoco te arcangelo Michele invoco il maestro Gesù Maria Regina Celeste coscienza michaelica e con amore vero puro e sincero vi chiedo di purificare la nostra energia le nostre intenzioni parole ed azioni e di elevare le nostre energie vibrazioni e frequenze aiutandoci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato creando uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce e l'amore più puro e vero di dio dea onnipotente padre e madre chiedo massima protezione psichica fisica in tutti i livelli per me e per tutte le persone coinvolte grazie caro dio grazie arcangelo Michele grazie maestro Gesù grazie coscienza michaelica è fatto è fatto è fatto e così è e così sia ora per sempre e per l'eternità bene vediamo un attimo che messaggi ha per noi l'arcangelo Michele gruppo a vediamo un po eccola qui è saltata fuori fai attenzione ai tuoi sogni gruppo a ecco gruppo b sono cadute due carte difeso e protetto scrivi i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti diamo gruppo c eccolo qui ci proteggi te stesso ok vediamo un po' eccola qui già è uscita la prima carta gruppo a il risveglio del vero se per il gruppo a ok vediamo gruppo b eccola qui si è girata oggi le carte vengono fuori una relazione romantica anime meravigliose gruppo c si è girata un'altra carta i sogni diventano realtà vediamo ora le carte degli angeli gruppo a credi nella tua guida interiore eccola qui si è girata sono cadute due carte caspita il gruppo b eh cadono sempre due carte radicamento radica a te stesso chiedi ok una lettura un po' particolare per il gruppo b e ora vediamo gruppo c cosa ci vogliono dire gli angeli eccola qui eccola qui gruppo c anche qui cupido bene bene mi diciamo la nostra lettura angelica allora è importante che ti fidi della tua intuizione va bene perché la tua guida divina è esatta dicono gli angeli quindi presta attenzione anche a quelli che sono i tuoi sogni perché i tuoi sogni stanno cercando di portare dei messaggi messaggi molto chiari di quello che la tua anima sta cercando di dirti e che tu non vuoi ascoltare perché dentro di te sai che quei messaggi sono reali che quei messaggi sono chiari e ti stanno mettendo in evidenza qualcosa che riguarda la tua vita attuale dei cambiamenti che devi apportare e delle relazioni se non mi veniva la parola il termine che devi lasciare andare perché devi ascoltare la tua anima la tua anima ti sta spingendo all'elevazione spirituale ok molto spesso il cammino spirituale è un cammino non dico di solitudine ma di introspezione quindi diciamo che in questo momento la tua anima sta chiamando in quanto c'è proprio il vero risveglio del sé l'anima che ti sta chiamando in una certa direzione quindi i sogni l'intuizione i segni presta attenzione a quello che l'anima ti dice e diciamo che c'è anche un invito alla preghiera e alla meditazione meditazione significa stare in silenzio stare ascoltare cosa l'anima ha da dirti questo è un invito a tutte quelle anime che stanno elevandosi alla quinta dimensione stanno ascendendo stanno cambiando frequenza è importante lasciare andare tutto ciò che sta creando ansia che sta creando stress che sta causando turbamenti tu sei un'anima destinata all'evoluzione spirituale va bene ok gruppo b diciamo che sei al sicuro sei protetto e sei protetta c'è un invito a pregare un po' di più perché c'è la protezione questo sì però la preghiera ti consente anche di ricollegarti va bene un invito è anche quello di scrivere quelli che sono i tuoi pensieri i tuoi sentimenti le tue sensazioni per fare chiarezza hai bisogno di fare anche tu introspezione di capire cosa vuoi veramente dalla vita perché diciamo che stanno arrivando cose un po' confuse perché non c'è un focus preciso cosa vuoi veramente dalla tua vita ok sicuramente diciamo che per quanto riguarda le relazioni romantiche c'è la possibilità di nuovi incontri per voi anche la consolidazione di rapporti già esistenti sono rapporti di anime gemelle sono rapporti di anime compagne di anime compatibili quindi sei al sicuro sei protetto e tutto sta andando in linea ma hai bisogno di chiarire di chiedere con chiarezza all'arcangelo Michele quello che tu vuoi veramente va bene quindi assolutamente anche per quanto riguarda il partner in quanto c'è un'energia che è in movimento nella tua direzione chiedi cioè diciamo che lo riconoscerai come se tu sai ciò che vuoi perché se tu non sai ciò che vuoi può arrivare di tutto e poi potresti accontentarti di un qualcosa che in realtà non soddisferebbe la tua le tue reali esigenze dell'anima come vuoi che sia il tuo compagno di vita la tua compagna di vita in che senso che carattere vuoi che abbia vuoi che ti rispetti che ti ami che ti coccoli ti faccia sentire importante ti faccia sentire amato amata che 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 sia gentile che non sia una persona volgare possono essere tante le caratteristiche scrivile scrivi nei dettagli dice l'arcangelo Michele scrivi nei dettagli quello che tu vuoi veramente da questa relazione ok e quando avrai chiare l'idea afferma che già è così che già è qui e vedrai che si manifesterà nella tua vita perché veramente c'è c'è un grande potenziale per te ok sia che si tratti dell'anima gemella sia che si tratta di altri progetti dell'anima un invito da parte dell'arcangelo Michele oltre alla preghiera la protezione anche quello del radicamento ragazzi ho messo tante preghiere di purificazione dei chakra che hanno come fine non solo quello di purificare i chakra ma anche quello di radicare l'energia fino al centro della madre terra questo è fondamentale anche nel processo di manifestazione perché molte anime in cammino hanno la tendenza a rimanere nei piani alti a rimanere diciamo un po' in uno stato di immaginativo però senza radicare l'energia per manifestare noi dobbiamo essere veramente centrati e radicati fino al centro della madre terra lì possiamo toccare il cielo se siamo radicati se siamo sradicati questo crea confusione caos e anche macello dal punto di vista della manifestazione dei nostri sogni ok bene gruppo c gruppo c assolutamente proteggi te stesso i tuoi sogni e tieni segreti i tuoi progetti c'è bisogno di protezione in quelli che sono i tuoi progetti perché diciamo che non tutti comprendono non tutti capiscono non tutti vogliono che tu vinca quindi confida i tuoi segreti solo a persone che sei sicuro sei sicura diciamo vogliono il meglio per te e se no lascia andare lascia perdere non ne vale la pena va bene meglio tieni tutto dentro magari anche tu puoi scrivere un po' per sfogarti per raccontarti scrivi un libro esprimiti danza aiuta le persone fai qualcosa di creativo per poter esprimere la tua anima ma non confidare i tuoi segreti alle persone sbagliate più tu manterrai segreti i tuoi progetti e più diciamo c'è la possibilità di un'imminente manifestazione in quanto i tuoi sogni diventano realtà e sì sempre tu sei sempre tu che vuoi l'anima gemella ebbene l'anima gemella può arrivare c'è il potenziale sta arrivando perché c'è un'energia molto potente di amore che sta arrivando nella tua direzione ma ripeto come nel gruppo B devi avere chiare le idee devi tenere segreti i tuoi progetti se hai incontrato qualcuno qualcuno datti il permesso di conoscere meglio di capire se quello che stai cercando è veramente questa persona se è così goditi l'esperienza perché veramente i tuoi sogni diventano realtà questo è il tema dell'amore ma si apre anche negli altri progetti creativi che siano progetti lavorativi che siano relazioni di amicizia che si tratti di un progetto di una nuova attività di un viaggio tutto sta arrivando e comunque ragazzi l'amore diciamo che San Valentino è arrivato un po' prima nel senso che l'amore è alle porte per molti di voi va bene e se stai vivendo una relazione assolutamente questa persona è la persona giusta per te e tu dentro lo sai quindi abbi fiducia dei tuoi del tuo sentire dei tuoi sentimenti bene anime meravigliose per questa settimana la nostra lettura si conclude volevo chiedere all'arcangelo Michele qual è il messaggio finale per tutte le persone coinvolte per il massimo bene supremo ok diciamo che qua dice di non aspettarti un tesoro dietro ogni angolo ok chi ha troppe aspettative perde la possibilità di meravigliarsi di fronte ai tesori che potrebbe trovare ogni giorno lascia più spazio all'azione spontanea e troverai ciò che cerchi diciamo che qua il senso della frase di questa di questo messaggio è quello di uscire dal controllo anche nel processo in manifestazione certo aspettative felici è già fatto è già compiuto però uscire dall'attaccamento per un risultato specifico anche perché di solito quando noi lavoriamo sulla manifestazione abbiamo le idee chiare sappiamo quello che vogliamo abbiamo un sentire delle aspettative felici poi però lasciamo che Dio sa cos'è meglio per noi quindi molto probabilmente ci arriverà qualcosa di molto molto più grande ok bene anime meravigliose è finita la nostra lettura insieme volevo ricordarvi che il corso per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce online su zoom sono massimo quindici sedici partecipanti eh inizierà il ventiquattro dicembre duemila e ventitré no scusate il quattordici dicembre duemila e ventitré il ventiquattro è la vigilia di Natale quindi iniziamo alle ore ventuno ogni lezione dura due ore verrà insegnato tutto sul riequilibrio energetico dalla A alla Z quindi per piacere se sei interessato se sei interessata connettiti con me fammi tutte le domande che vuoi io risponderò alle tue domande ti manderò un video training completamente gratuito dove c'è la presentazione del corso nei dettagli ok se invece vuoi sentire la tua anima ascoltare cosa gli angeli hanno da dirti ascoltare udire sentire percepire la voce di Dio e dell'arcangelo Michele questo è possibile sia che tu sei in un livello avanzato sia sei già un canale aperto sia che tu eh non hai non hai mai eh diciamo non hai mai comunicato con gli angeli o perlomeno non riesci a perceperli a sentirli allora questo corso fa proprio per te un corso online sempre su zoom inizierà il ventisei di gennaio quindi voglio dire hai due opzioni riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce o la connessione con gli angeli se invece sei un'anima che ha voglia di vivere l'esperienza dal vivo in presenza sappi che il dal 23 al 26 marzo 2024 ci sarà il seminario a San Donato milanese ok in questo seminario a numero chiuso massimo 15 partecipanti ci sono ancora sei posti disponibili quindi se sei interessato se interessata non esitare a contattarmi saranno quattro giorni super potenti due di guarigione dove imparerai tutto sulle nuove frequenze di luce e altri due sulla connessione al sé superiore in più riceverai la tua connessione al superiore personale e ben tre sessioni di riequilibrio energetico che sarò io stessa a facilitare su di te a distanza anima meravigliosa per qualsiasi informazione contattami io vi saluto vi abbraccio a presto ciao a tutti